Oggi siamo venuti ad ascoltare l'interrogazione al Consiglio Comunale per avere delle risposte dal Sindaco e dalla Giunta. Arci Gay Genova non organizza direttamente il Gay Pride, ma partecipa e soprattutto porta avanti un'attività quotidiana durante l'anno che ci vede coinvolti in prima persona in tutte queste discussioni. Noi siamo preoccupati per quello che sta succedendo, riteniamo che non sia divisivo il Pride. Tutto ciò che c'è di divisivo è un problema che deve essere affrontato e il Comune non deve rappresentarlo. Sono in progetto, altre iniziative, cosa pensate di fare a questo punto dopo aver ascoltato l'intervento? Noi parteciperemo al Pride e faremo in modo di essere presenti in modo visibile perché ci teniamo ed è importante per noi rendere visibile il nostro lavoro. Non è l'unica cosa che faremo nell'arco di quest'anno, noi speriamo di riuscire a candidare questa città per un momento molto importante a livello nazionale nel prossimo giorno.